Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come scaricare e installare Bluestacks 10 l'ultima versione di Bluestacks ovviamente se hai ancora una versione di Bluestacks 4 e riesci a supportare anche la versione 10 puoi scaricarla direttamente dal sito Bluestacks ovviamente te ho lasciato un link in descrizione eccolo qua tu clicca su scarica Bluestacks 10 oppure se vuoi le altre versioni tipo Tagalog 4 passi al 5 oppure se hai il 5 passi al 10 quindi scarica Bluestacks 10 andiamo a scaricare Bluestacks uscirà così sul desktop il setup da installare clicchiamo sopra farà un controllo del sistema se puoi supportare questo Bluestacks ovviamente a me dice di lanciare il programma perché lo tengo già installato qui sotto troverai modifica l'installazione quindi mi raccomando fa attenzione dove lo installa quindi modifica l'installazione lo installa in una cartella di un tuo disco io ovviamente mi diceva di installarlo sul disco locale C dove tengo Windows ovviamente ho 40 gigabyte di spazio e l'ho installato sull'M2 il disco su quest'altro disco l'ho installato questa è la cartella di Bluestacks ho creato la cartella in quel disco e poi ho fatto installa ho installato il programma una volta installato non ci resta che lanciare Bluestacks ed eccolo qua ovviamente tu se vai a scaricare tipo un gioco per esempio ovviamente per scaricare e installare i giochi qui c'è l'app player quindi significa che i giochi che hai installato devi aprirli per forza su app player per esempio se io adesso vado a cliccare su app player ti esce tipo un errore dell'hyper-v in alto a destra c'è un video su come risolvere quell'errore oppure chiudi tutto e avvia Bluestacks 10 come amministratore io vado a cliccare su app player come puoi vedere non mi è uscito l'errore dell'hyper-view e poi non mi ha chiesto di eseguirlo come amministratore mi ha aperto così l'app player della versione 5 e qua troverai i tuoi giochi farai l'accesso così a Play Store quindi cerca giochi in app se trovo Play Store ecco Play Store ed ecco tutti i giochi, il mio account come se fosse il telefono quindi tablet trovi i due giochi, li scarichi, installi e li troverai sull'app player e chiudiamo tutto se questo video ti è stato utilissimo su come scaricare e installare la nuova versione di Bluestacks 10 se hai problemi ad aprire questa applicazione in alto a destra come ho detto c'è una guida su come risolvere l'errore che ogni volta che vai ad avviare il programma ti esce una notifica che ti porta su un altro sito vuol dire che il programma non funziona quindi va eseguito come amministratore quindi clicca su Bluestacks, tasto destro sopra e segui come amministratore quindi se ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao